Una duplice azione, da un lato la creazione di percorsi che in Italia sono stati poco esplorati e che invece, come ricordavo anche nel corso dell'intervento, sono stati ampiamente esplorati in Germania in particolare e in Francia, gli ITS in particolare. Però nello stesso tempo è necessario anche intensificare il lavoro di preparazione degli studenti perché acquisiscano quelle competenze necessarie a un più rapido e più incisivo inserimento nei percorsi universitari che anche essi, come dicevo prima, devono sfociare poi nello svolgimento di attività professionali.